Bella ragazzi! Bella ragazzi! Cosa c'è dentro la piastra d'induzione? Montiamola subito! Certo! A me è l'avvitatore! Ah, e io prendo la cacciavite! Allora, qua c'è un flat corto! Risparmiano sempre sui flat! Allora! A proposito di flat, guarda questo qua bello schiacciato! È vero! Che montaggio accurato! Ah, vediamo le due belle bobine di induzione! Sono fabbricate col filo di Litz! Più tardi vi spiegheremo perché si usa questo filo che è un intreccio di fili! Tutti, ognuno isolato, ogni singolo filino isolato dagli altri! Smontiamole subito! Smontiamole subito! Certo! Tanto diciamo che questa piastra d'induzione è stata donata, sicuramente non è funzionante e magari troveremo anche il tasto, potrebbe essere qualcosa di subito! Eh sì, perché non andava più, mi sembra di subito! Allora, qui abbiamo due fili che sono collegati, li vediamo! Al centro della bobina! E qui abbiamo questo, che direi che è un fusibile termico, cioè se sale troppo la temperatura alla pentola e senza acqua si arroventa, si spegne tutto! E questo potrebbe essere o un diodo per la misura della temperatura o un termistore! Vediamo cos'è! Lo proviamo! Abbiamo qua il nostro Kaiwitz! Allora! Quello blu dovrebbe essere termistore! Vediamo! Se è un diodo o un termistore! Perché anche i diodi sono sensori di temperatura! 137 kg! Prova esatto! Scaldarlo! Scende! 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 Un termistore! Resistenza negativa! E' un coefficiente negativo di resistenza! C'era una pasta termica! Misuriamo questo! Esatto! Il fusibile! Vediamo se magari è saltato il fusibile! Si! E non funzionava per quello! No no! E' in cortocircuito! Nel senso che, essendo un fusibile non fuso, conduce! E' corretto! E' corretto! Poi qui abbiamo un altro fusibile! Si! Lo controlliamo subito! Sembra divisa in due sezioni identiche! Questa e quella! E' buono! Conduce! Questa e questa! Sembra in due sezioni identiche! Si! Si! E sono alimentate da questa scheda! Qua sotto si vedono le due ventole! Le ventole! Fate quelle che silenziose! Si! Con le palette con quel profilo particolare! Qui abbiamo le schede di controllo del comando! Ci saranno dei piccoli specie di microprocessori! Queste qui sono due piastre in ceramica! Ce n'è una venata! Si! Si! Sono anche degli schizzi! Si! In corrispondenza della ventola! Si! Allora! Il mobile che si sia tirata su del liquido! Si! Allora! Cosa abbiamo? Questo sistema di alimentazione! Qua abbiamo... sono uguali queste due schede per i due fornelli! Abbiamo dei circuiti di controllo! Poi prendono i dati da questi! Da questi microprocessori! Inviano i dati di questi! E quindi ci sarà l'abilitazione eccetera eccetera! Qua abbiamo... ci sono due viti! Sicuramente ci sono due MOSFET di potenza! Questo è un condensatore di polipropilene per alte correnti! Un MKPH! Un MKPH! Un SH! Per risonanza! Permettono il passaggio di forte correnti! Alta tensione e alta frequenza! Ed è in parallelo alla bobina! Circuito LC risonante! Questo qua è un filtro! Qua abbiamo dei condensatori però... diciamo di bypass per cortocircuitare l'alta frequenza! Sull'alimentazione e a monte del circuito generatore! Probabilmente per compatibilità elettromagnetica! Quelli abbiamo molto vicino all'alimentazione! Quindi è probabile che siano collegati in parallelo! Qua c'è un bel toroidone di filtro! Anzi direi... smontiamola! Sontiamola! Esatto! E anche questa! C'è una vita arrugginita lì! Sì! Anche qua! Anche lì! Sì! È entrato qualcosa! È entrata acqua salata! Probabilmente sì! Sì la testa arrugginita! Sta diventando un video di riparazione in plastica! Sì! Stiamo cercando il guasto! Questo si muove già! Scolghiamo questi! Anche questo della ventola! E possiamo anche staccare questi a questo punto! Questi faston grossi! Cambio mano! Casi è uscito! No! Lasciamoli attaccati! Lasciamoli attaccati! Sono belli piantati! Mi aspettavo qualche bruciatura invece! È a posto! Qua ci sono queste piste! Rinforzate da stagno! Per aumentare lo spessore! Quindi la sezione e la conducibilità! vari tagli per scongiurare scariche elettriche! Dove ci sono punti vicini ad alta tensione! Per aumentare l'isolamento! Sì! E qua sotto si vedono! Qua se ne vede uno! I MOSFET! E quindi! Aspetta un attimo! Sfiammato lì! C'è una bella sparata! Sì! Sul sistema di alimentazione questo dovrebbe essere un relè qualcosa del genere! E sembrerebbe essere un relè principale perché è proprio sull'alimentazione! Sì! Quindi non veniva più alimentato! Ecco! Si vede bene adesso! Vediamo anche sotto la scheda! Vediamo sotto! Ma sto già vedendo una cosa! Qua ci sono dei componenti tutti ossidati! Quindi è entrata acqua salata! Sì! Anche questo transistor qua! Sì! Forse addirittura dalla crepa che c'era nel... Aiuto! Qua ha fatto un disastro! Sì! Entrata acqua salata e ha fatto scoppiare tutto! Però secondo me! Allora! Visto che si è fermato tutto a livello dell'alimentazione! Sì! E questa è a posto almeno! Queste potremmo provare ad alimentarle! Sì! Però avranno bisogno dell'abilitazione di questo! Quindi della alimentazione di questo! che viene da questo piccolo switching! Che però mi sa che è bello andato! Quello che ha tutti i componenti ossidati! Non sappiamo se potrebbe essere... Bisogna studiarci un po' per capire quale segnale dare per alimentare! Se no! Studiare come fare un bypass qualcosa! E farla funzionare senza il circuito di controllo o di gestione! Così! Libera! Allora! Come funzionano queste cose qua? Allora! Innanzitutto cos'è il filo di lizzo? Si chiama effetto pelle! Quello che è... La corrente in un conduttore passa... Questo qua è un conduttore, un filo, un qualsiasi cosa... La corrente continua, passa in tutta la sezione! Se noi tagliamo passa omogeneamente in tutta la sezione! Se invece la corrente è alternata, man mano sale la frequenza e man mano la corrente scappa dal centro e passa come sulla pelle del conduttore! E più alta la frequenza passa sempre di uno strato sempre più sottile! Cosa si fa per ovviare questo problema? Allora! Invece che fare un filo grosso che diciamo ha una superficie esterna... diciamo un perimetro esterno tot dove passa l'alta frequenza mentre dentro non passa niente o ingrossiamo il filo da aumentare il perimetro oppure lo suddividiamo in tanti fili separati! Ognuno ha un suo perimetro e la somma di tanti perimetri di tanti fili sottili forma un grosso perimetro! E chiaramente se questi fili sono tutti a contatto elettrico tra di loro la corrente farà questo lavoro! Invece che passare in ognuno di essi! Invece sono isolati uno rispetto all'altro e intrecciati! Quindi la corrente passa su tutti i perimetri di questi fili formando un grosso perimetro ben più grosso di un filo di questo diametro se fosse unico! Un'altra cosa da far vedere sono queste che sono piastrine di ferrite che servono a concentrare il campo in queste zone particolari! Alcune bobine da fornello induzione invece di avere il filo di Litz che fa una spirale verso l'esterno sono formate da tante fette triangolari! Allora, altra cosa, l'induzione cos'è? Se io mando una corrente che circola in una bobina così, una corrente continua, metto un'altra bobina di fronte e non succede niente! Succede solo qualcosa quando do la corrente in quel momento che si genera un campo magnetico impulsivo che si trasferisce all'altra bobina simile, perché da lei esce poi una corrente anche se non è collegata! Quando tolgo corrente anche se io tolgo corrente velocemente tantissime volte al secondo continuerà a passare un campo magnetico che si inverte continuamente e comunica praticamente all'altra bobina di fronte questo campo magnetico e lei lo ritrasuorna in correnti elettriche ai suoi capi! Se la bobina di fronte è in corto circuito succede che questa scalda, scalda perché le correnti che si formano si chiudono su se stesse e si produce una forte corrente. Se una bobina, quella che genera il campo magnetico variabile, che varia intorno ai 40.000 volte al secondo in questo caso, allora quella che genera il campo variabile è di rame fatta a questo modo qua, non scalda! Se l'altra bobina è fatta di un materiale non conduttivo come le rame, ma tipo l'acciaio inox, questa non scalderà, è quella d'acciaio inox, scalderà e dentro c'è l'acqua, c'è il brodo, c'è un pollo a bollire, quindi è la pentola che si scalda nella cucina di induzione, il metallo della pentola, se noi mettiamo una pentola di vetro sopra non succede niente, una pentola di plastica nemmeno, se mettiamo una pentola di alluminio, che è un buon conduttore quasi come il rame, succede che si scalderà poco e si scalderà anche questa e va in blocco il sistema perché se è una forte corrente ci crea problemi. E una mano si scalda? Una mano non si scalda, non si scalda perché ha una resistività in questo caso troppo elevata, l'inox va bene, l'alluminio non va bene, quindi la mano non va bene, l'alluminio non va bene e l'inox va bene. E' una perfetta resistenza a un riscaldatore dove la corrente che scalda questo inox si genera in lui. Ora potremmo anche farvi vedere questo principio, in un attimo avevamo già fatto un video apposta però facciamo rivedere per chi non l'ha visto cosa succede l'induzione, che cos'è proprio tangibilmente, fisicamente. Diciamo anche per informazione che alcune persone ci sono rimaste male perché hanno comprato una cucina induzione e poi si sono ritrovati delle pentole che non funzionano. Le pentole fatte apposta per le cucine induzione hanno il simbolo appunto dell'induttanza sopra o altrimenti si possono usare anche le vecchie pentole tradizionali e rendono degli adattatori di ghisa o di metallo da interporre fra la bobina e la pentola. Quello si scalda e scalda poi la pentola di conseguenza. Se le troviamo vi mettiamo qualche link nella descrizione del video. Non va bene chiaramente qua le pentole di inox col fondo, quello di rame conduttore o di alluminio, ci vanno apposite pentole di inox. Allora, però prima del Royer abbiamo indicato di smontare le viti arrugginite. Vediamo com'è. Smontiamo subito. Sì, smontiamo subito, giustamente. Tante viti, tante. Tantissime. Tantissime viti. Sembra accelerata ma in realtà sono io che non sono molto rapido. Infatti mi travi dei punti quasi con l'abitatore. Ok. Ah, ce n'è ancora una? Sì, sì. C'è della ruggina anche qua, su questo pulsante. Allora, questo qua, questo è il cavo che va a gestire il generatore di alta frequenza. Questo qua era attaccato qua ed è, può renderla alimentazione per la scheda da questo, questo qua è quel piccolo switch. E da qua probabilmente la bypassa e la porta anche a questa scheda. Allora, però qua c'è una curiosità che ci viene, una certa curiosità. Qua c'è scritto 5V, ecco. C'è scritto GND al 5V e K1-CTR contro il relais. Probabilmente la scheda andava a mandare un segnale di ritorno per pilotare il relais. E dare alimentazione ai tuoi sistemi, a tutto. Allora, la nostra curiosità sta crescendo e vorremmo alimentare, tanto questa è ormai partita, alimentare questo, alimentare questo, attaccare, alimentare direttamente. Prendi il cavo della morte, prendo il cavo della morte, prendi il cavo della morte. Niente, abbiamo collegato questo alimentatore, adesso vediamo se vanno queste schede e abbiamo collegato il cavo della morte con la sua spina per alimentare direttamente questa, con la 220. Accendiamo l'alimentatore. Funziona, funziona. Allora, sta aspettando, io attacco quasi il cavo della morte, attenzione che non scopri niente, ma dovrebbero essere sane queste schede. Ho dato un segnale, c'è un buzzer lì. Io ho già una cosa pronta. Allora, qui abbiamo un on-off, un power, un heat, timer, up e down che saranno su e giù della potenza, quindi partirei con on-off. E, eh, power, power, e o. Non so cosa succede. Vibra! Mi vibra in mano. Fuma! Guardate! È rosso! È rosso lì in quel punto. Sta concentrandosi. Sta concentrandosi. Si sta deformando. Si sta deformando tutta la... E se mi sposto qua... Si sta scaldando anche qua. Si deforma tutta. Naturalmente dovrebbe essere collegata alla sua ventola di raffreddamento. Senti un po' di scossino, ma... Non scalda più di tanto. Guardate come si è deformata. Bene. Adesso suona perché... Nell'elettronica all'interno... Tanto spegniamola. Prima di trovarcela sui denti. L'elettronica interna è in grado di rilevare se la pentola che è stata messa sopra è adatta all'induzione oppure no. Normalmente questi circuiti lanciano un piccolo impulso di corrente. In base alla EMF, cioè la corrente di ritorno che ricevono dalla bobina, riescono a capire se c'è una pentola del materiale idoneo appoggiata sopra oppure no. Passiamo adesso al Royer. Ecco qua abbiamo un oscillatore Royer che avevamo già presentato in un video tempo fa. Questo qua l'abbiamo costruito noi, ma si trovano anche su internet. Ce ne sono addirittura da 1000 Watt. Questo è da 150 Watt, è piccolino. Magari mettiamo un link, se vi interessa. Viene alimentato con una trentina di Volt, 5 A massimi, perché l'alimentatore di più non ne può dare. L'abbiamo acceso. Allora, questi sono i condensatori di risonanza. Questa è la bobina fatta col filo di Litz, come quello che avete visto nelle bobine del suo principio. Fammi provare col dito. Col dito non fa niente. Troviamo a infilarci questo pezzo di ferro, una lama da seghetto. È salita la corrente. 5 A, intorno a 5 A, ci sono un po' di tensione. Sta consumando energia questa lama da seghetto. Sta consumando energia. Il principio dell'induzione. Lei si comporta come una spira in cortocircuito. È di ferro, questa è di ferro, di acciaio. Ah, le pentole per fornoinduzione. In realtà è un acciaio inox speciale che ha una data resistività. Non è il comune acciaio inox delle pentole di acciaio inox. Ha una data resistività per avere l'ottimizzazione del trasferimento di energia. E niente, a questo punto vi salutiamo. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Se qualcuno nuovo vede questi video, se si iscrive e mette l'opzione delle notifiche, avrà la notifica di quando c'è uno dei nuovi video. Facciamo. E vi ringraziamo tutti. Bella ragazzi. Bella ragazzi.